C'è una tentazione nella quale respiriamo particolarmente ai nostri giorni, quella di una stanchezza interiore. La nostra comunità ecclesiale non è messa in discussione ma sembra che il suo messaggio non interessi più, anzi per molti. È una realtà fastidiosa, quasi noiosa, che lascia indifferente l'animo delle persone e lo rende sempre più distante. Sono le parole dell'arcivescovo di Foggia e Bovino, Monsignor Vincenzo Pelvi, rivolte alla comunità foggiana nei giorni di devozione rivolti all'icona vetere. Per Pelvi la conseguenza è una crescente lontananza che paralizza ogni iniziativa e spegne l'entusiasmo evangelico di una volta. Vorrei, l'auspicio dell'arcivescovo, che ritornassimo al Signore con tutto noi stessi, facendo spazio allo spirito di gratitudine e di speranza, di fiducia e tenerezza, di pazienza e compassione. Rivolgendosi ai giovani che coltivano sogni grandi ma spesso fuscati dal timore di non vederli realizzati, Pelvi dice di non avere paura. A voi giovani che siete il presente e il futuro, Gesù oggi dice non temete, è aggiunto, nel timore e nella paura ciascuno scelga la libertà nella sofferenza e nel silenzio, ciascuno diventi testimone, ha concluso l'arcivescovo, nel fallimento e nella delusione. Possiamo testimoniare che solo Dio salva dall'inizio del tempo, ora e sempre.